buona giornata buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi sabato 7 ottobre 2023 e si festeggia la beata vergine del rosario è una festa questa che ci riporta al 1571 quando la flotta cristiana sconfisse i turchi nella famosa battaglia di lepanto la vittoria venne attribuita allora pensate alla santa vergine perché mentre si combatteva si recitava il rosario la festa fu istituita da pio quinto sotto il nome di maria della vittoria ma poi fu mutuata due anni dopo da gregorio xii in quello della beata vergine del rosario poi il rosario ebbe tutte le sue manifestazioni in seguito ricordiamo il rosario della madonna di pompei ricordiamo le apparizioni di fatima di lourdes e via dicendo questo per quanto riguarda la festività di oggi e quindi vediamo le previsioni del tempo e nella grafica diciamo subito che non ci sono grandi variazioni rispetto alle giornate precedenti infatti oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da sud ovest al pomeriggio moderati e proverranno da nord este il mare poco mosso le temperature 12 gradi la minima 24 la massima ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal resto del carlino il quale evidenzia la polemica che è succeduta alla presentazione del waterfront di sassonia che si è svolta l'altro giorno nella sala riunioni dei marina center ovvero dell'ex laboratorio di biologia marina è un progetto che sta per partire i lavori si inizieranno tra una quindicina di giorni i lavori e verteranno su tutta l'area attorno all'anfiteatro rastat che sarà cambiato radicalmente ci saranno molte novità i lavori dovranno essere conclusi entro l'aprile prossimo in modo da essere pronti per la stagione estiva ma intanto ovviamente l'opposizione insorge insorge perché ha rilevato delle criticità intorno a questo progetto criticità che sono state rilevate dagli stessi operatori che vedono cambiata la situazione attorno ai loro esercizi vedi per esempio l'hotel cristallo che a cui viene privata tutta l'area dei parcheggi che sono tra l'anfiteatro rastat appunto e l'hotel l'albergo privare i parcheggi insomma destra sempre polemiche anche se c'è poi la promessa di recuperarli comunque oggi abbiamo due forze politiche che intervengono sono fratelli d'italia e la lega per fratelli d'italia c'è la mancanza di un adeguato piano di viabilità mentre la lega insorge una città virtuale una città insomma che non ha concretezza secondo la lega e poi la lega oggi pomeriggio allestirà un banchetto nei pressi della rocca malatestiana ma quello che si evidenzia è un altro problema quello della sicurezza di cui poi parleremo ed ora parliamo anche di un bellissimo incontro un incontro che si è svolto ieri mattina in due posti di Fano ovvero nel Palasport all'Iende e nel Fano Center ovvero il supermercato di Bellocchi ebbene era ospite del Fano Center Paolo Nespoli l'astronauta che ha compiuto tre missioni nello spazio ha incontrato gli studenti delle terze medie al Palasport all'Iende ha raccontato la sua esperienza ha risposto alle domande domande alcune anche irriverenti per esempio gli è stato chiesto come mangia e cosa mangia un astronauta mentre è nella navecella spaziale e poi come evacua ebbene è quello che evacua che fine fa ebbene la pipì viene recuperata attraverso l'acqua insomma poi la viene trasformata in acqua il resto invece quello più solido viene distrutto insomma poi queste cose Nespoli ha così le ha spiegate ma insomma non era molto contento di queste domande non voleva più domande un pochino più sostanziose in realtà poi domande sostanziosi ci sono state perché un bambino gli ha chiesto anche che effetto fa come matura un uomo dopo un'esperienza di tre viaggi spaziali e veramente lì c'è una risposta che fa pensare che fa meditare e che soprattutto allude al progresso tecnico che il mondo sta attuando da diversi anni a questa parte Nespoli incontra gli studenti delle scuole medie poi ha inaugurato una bellissima mostra del sistema spaziale nella galleria del Fano Center con una riproduzione veramente grande come dimensioni di tutti i pianeti quindi andando si vedono appunto tutti i pianeti Giove, la Terra, la Luna, abbiamo Saturno insomma tutti i pianeti del sistema solare riprodotti abbastanza fedelmente e poi abbiamo anche dei reperti interessanti come la polvere lunare e anche una biografia originale di Neil Armstrong il primo uomo che è sceso sulla Luna. Vediamo ora le altre notizie scatta il duello della Moretta in pedana due associazioni. Ebbene c'è stato quasi il tentativo di qualcuno di appropriarsi del logo, del simbolo della Moretta, in realtà la Moretta è un simbolo che appartiene a tutta la città di Fano, è stata così promossa, non dico inventata perché lì ci sono delle polemiche dai pescatori e quindi è un simbolo, il logo della città. Ebbene il duello è tra la CNA e la Confesercenti, è un patrimonio di tutta la città dice la CNA, la Confesercenti ribadisce proprio perché così la promuoviamo al meglio e il paragone vola un po' a quello che è la pizza Rossini per Pesaro. Parliamo di politica perché ci dà l'occasione, ce ne dà l'occasione, questo articolo di spalla del resto del Carlino. Ebbene i civici delle Marche sostengono la candidatura per quanto riguarda il centrodestra di Stefano Aguzzi. Aguzzi sarebbe il sindaco migliore, affermano appunto questi partiti. Lo afferma a nome loro il consigliere regionale Giacomo Rossi. A Fano il gruppo, fa sapere Rossi, si è appena costituito e presto aprirà una sede vicino alla piazza. I civici Fano sono senza tanti giri di parole e dichiarano subito il loro appoggio a Stefano Aguzzi. Quindi c'è già una preferenza che viene formalizzata. Ed ora parliamo della giornata contro gli infortuni sul lavoro che si organizza a Mondolfo. Lavoro, meno infortuni e più malattie professionali. Questo è il dato del consuntivo che emerge nell'anno in corso. I dati vengono resi noti dall'ANMIL che è l'associazione che riunisce gli infortunati sul lavoro. Diminuiscono in provincia gli infortuni sul lavoro, ma sono in aumento le malattie professionali. Ebbene, vediamo qualche dato. Da gennaio a luglio di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il nostro territorio ha avuto un calo dell'8,36% delle denunce per infortunio. Da 2410 sono attualmente, erano invece 2630. E poi abbiamo altri dati che si riferiscono sempre a questo periodo, insomma che fanno vedere un leggero miglioramento della situazione. Ma l'attenzione deve essere sempre molto molto alta, perché la sicurezza è uno dei beni primari per quanto riguarda la garanzia di un lavoratore. Ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Urbino, dove si evidenzia un caso accaduto nel Candigliano, il torrente che si getta poi nel fiume Metauro. Ebbene, un 41enne che aveva deciso di farla finita, si è gettato da un ponte, ma la corda si è rotta, è precipitato ed è sopravvissuto. Ed è un vero e proprio miracolato. Miracolato è la parola che usa il resto del Carlino su questo titolo, dopo aver detto che quest'uomo ha fatto un volo di 10 metri nel fiume, soccorso dai pompieri. Dopo una segnalazione fatta da un impiegato ai carabinieri è stato subito ricoverato, che ha una ferita al collo, lo si era stretto la corda al collo, ma non è in pericolo di vita. Vediamo anche un articolo che riguarda una manifestazione importante, è quella che si svolge a Sant'Angelo in Vado. Si parla del tartufo. Il tartufo fa 60 con il drive-in e la maxi frittata. Sant'Angelo oggi alvia la sessantesima mostra nazionale del bianco pregiato. Pensate, verranno cotte 500 uova con un mega assaggio, ma ci sono anche tanti tanti chili, 5 chili di tartufo che daranno un sapore inimitabile a questa grande frittata e poi ci sarà la degustazione delle auto storiche. Vedete qui quanta gente affolla questa iniziativa di Sant'Angelo. E poi è bella Sant'Angelo da visitare, c'è una bellissima domus romana, la casa del mito, con dei bellissimi mosaici, insomma che rivelano l'antichità di questa terra, una terra ancora oggi molto molto prolifica. E vediamo anche qualche notizia di Pesaro. Vediamo come si parla della cittadella dello sport, una grande incompiuta, in questo caso c'è una mancanza di soldi, mancano due milioni e mezzo per completare la piscina, soldi promessi dal sindaco Matteo Ricci, ma ancora non destinati appunto a questo investimento. E chi fa l'allarme? L'allarme è quello di Amadori, eppure il sindaco ci aveva detto che i soldi c'erano, insomma una situazione che deve essere chiarita prima di tutto e poi anche recuperata. E poi vediamo che il marchio Berloni, questo famoso marchio purtroppo finito male a causa del fallimento della ditta dei fratelli Berloni, è stato acquistato da una ditta del Veneto, si tratta di Arredissima, Arredissima che lancerà una campagna di acquisti con il logo Arredissima Berloni. Ma abbiamo già alcuni contatti per continuare a produrre a Pesaro, hanno detto i titolari di questa ditta che hanno appunto acquistato il marchio. E questa è una fortuna, perché insomma la Berloni era un elemento importante dell'economia pesarese. Ed ora parliamo invece della strada del mare, quella che conduce a Fiorenzuola. Guardate, non so se riuscite a vedere bene, ma in questa fotografia vedete tutte le curve che dall'alto del San Bartolo conducono in riva al mare. È una via a zigzag. Vedete qui, vedete qui, ecco questa è la via con tutti i tornanti che conduce sulla spiaggia di Fiorenzuola. È una via importante, soprattutto anche per i soccorsi che i bagnanti possono ricevere in caso di infortuni. È vero, dice il giornale, che i soccorsi possono arrivare dal mare tramite la Capitanieria di Porto, ma avere anche una via che collega con la terra, insomma, è molto importante. E quindi c'è l'appello al Comune perché questa via venga ripristinata al più presto, soprattutto in vista della prossima stagione turistica. Ed ora parliamo di un bel titolo che evidenzia ovviamente una notizia interessante, un titolo che è curioso, fatto ad hoc. Vescovo, parole sante sulla discarica. Trattandosi di un vescovo non si può che definire sante le sue parole. Insomma, poi ci sono anche i punti di vista diversi, dobbiamo dire. Ebbene, il vescovo Salvucci, l'arcivescovo Salvucci, si è pronunciato contro la discarica di riceci e sarà presente ad una manifestazione organizzata dai comitati che faranno veramente un corteo, un corteo verso la discarica. Partendo appunto dall'entroterra sarà un corteo che vedrà la partecipazione del vescovo, una partecipazione che dà veramente un'impronta più decisa a questa manifestazione. Vediamo anche la cronaca, vediamo anche la cronaca. È stato individuato un tossicodipendente che aveva appena consumato la droga nella propria auto. È stato individuato da una pattuglia di vigili urbani perché aveva parcheggiato male l'auto. Fermato, fatto scendere, hanno notato i vigili che aveva ancora della polverina bianca attorno le narici del naso. Pensate, non aveva fatto in tempo appunto a pulirsi e aveva consumato la droga poco prima. Il fatto è avvenuto a Pesaro, aveva posteggiato in viale 11 febbraio accanto all'altezza di via Curiel. Caso vuole che in quel punto è passata proprio in quel momento una pattuglia della polizia locale. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e lo hanno segnalato alla Prefettura come consumatore abituale. Vediamo anche un articolo che riguarda Vallefoglia. La ciclo pedonale sarà una realtà. Un milione di euro in chiave green. Abbiamo presentato il percorso di questa nuova infrastruttura che si snoderà lungo la strada provinciale che collega i due territori del Vallefoglia e Monte Labate. Una di queste zone sarà una grande occasione per tutti. Il tratto sarà di 2,5 km. Migliorare la circolazione del traffico e abbassare l'inquinamento sono gli obiettivi di questa realizzazione. E questo è per quanto riguarda il resto del carlino. Ora abbiamo anche il Corriere Adriatico qui davanti a noi e vediamo subito quello che pubblica il giornale sulla pagina di Fano. Si parla proprio di quell'argomento che avevo preannunciato prima quando parlavo di Fratelli d'Italia e della Lega. Ebbene, Fratelli d'Italia esprime il suo pensiero in merito alle decisioni che il Comitato della pubblica sicurezza, quello provinciale, ha appunto assunto nella sua ultima riunione. Un'ultima riunione dedicata in modo particolare a Fano, dove negli ultimi tempi sono accaduti, dei fatti che insomma pregiudicano la sicurezza della città. Città in preda alle baby gang, a gruppi di giovani che fomentano delle risse, che spacciano, che si abbandonano ad ubriachezza molesta, questo non solo i giovani ma anche gli adulti. Insomma Fano a questo momento è sotto un'attenzione particolare. E quindi il Comitato, che poi è presceduto dal Prefetto, ha appunto focalizzato la situazione fanese ponendo dei provvedimenti e questo ha destato la soddisfazione dei consiglieri comunali Lucia Tassi e Giuseppe Pierpaoli, che salutano con favore una campagna operativa fondata sull'utilizzo di un approccio integrato, un approccio integrato, una collaborazione tra le forze dell'ordine ma anche altri soggetti, per esempio l'Ispettorato del Lavoro, i Servizi Sociali, l'Azienda Sanitaria Territoriale, altri enti che non hanno come fine primario il perseguimento dell'ordine pubblico però possono collaborare e aiutare le forze dell'ordine. E poi sempre su questa questione vediamo che oggi, dalle ore 16, nei giardini della Rocca Malatestiana, il luogo non è stato scelto a caso perché i giardini della Rocca Malatestiana sono uno dei punti focali dove si svolgono perturbative dell'ordine pubblico insieme al Pincio, insieme poi a alcuni altri quartieri periferici della città. Ebbene la Lega oggi alle 16 farà un presidio per evidenziare come questi luoghi siano da monitorare più attentamente e vedremo poi che cosa dichiarerà e quale riscontro avrà questa iniziativa nei confronti dei cittadini. Vediamo anche il Corriere che dedica attenzione alla candidatura dei civici per il prossimo sindaco di Fano, scegliendo Stefano Aguzzi, dicono che è il migliore candidato a sindaco. E poi vediamo qua la polemica invece sulla Moretta. Giù le mani dalla Moretta è un patrimonio della città polemica tra la CNA e la Confesercenti. Dobbiamo dire che i prodotti dell'enogastronomia sono stati molto evidenziati in questo anno in modo particolare perché si è capito che l'enogastronomia esercita una forza d'attrazione nei confronti dei turisti particolarmente importante. E una di queste iniziative è anche la città da gustare, il cibo di qualità tra potenzialità e problemi che sono stati così verificati, sondati, studiati nel corso di diversi incontri che ci sono conclusi proprio nella giornata di ieri. E poi a fondopagina abbiamo la presenza di Nespoli a Fano, l'astronauta che ha incantato gli studenti con le sue avventure nello spazio, gli studenti lo hanno considerato un po' come un supereroe perché insomma un astronauta che sfida la gravità e poi aleggia con l'assenza di forza di gravità nello spazio, insomma desta una certa suggestione. Ma io vi invito anche a guardare questa fotografia per farvi notare come le grandi sfere, le vedete qua, qua ce n'è una e poi qua ce ne sono anche altre, queste grandi sfere che simboleggiano i pianeti del sistema solare corredano la mostra che è stata allestita nella galleria del Fano Center. E parliamo di un avvenimento che desta ancora sensazione ed emozione, la strage di Corinaldo. Per quanto riguarda la strage di Corinaldo si sta celebrando il processo in Ancona ed ecco la controperizia, afferma il evidenzia, anzi il Corriere Adriatico, la Commissione ha agito regolarmente, il consulente di parte non era tenuto a fare verifiche strumentali, la rampa di uscita era sicura. Questo per quanto riguarda una tesi che viene evidenziata davanti ai giudici. Sono dei problemi, degli aspetti che vengono via via verificati in questo processo che ovviamente, a parte le formule giuridiche, desta sempre punge come una spina nel cuore a tutti coloro che hanno seguito la vicenda. Scomparso da due giorni, era precipitato dal ponte per 10 metri, il fatto che è avvenuto nei pressi di Fossobrone nel Candigliano. Un quarantenne recuperato a Sant'Anna aveva tentato il suicidio ma la corda si è rotta. Vediamo ora quello che accade anche a San Costanzo dove un giudizio positivo è stato espresso nell'istituzione dell'Asp. Questa azienda pubblica per i servizi alla persona che sostituisce un po' l'ambito sociale numero 6 per quanto riguarda la gestione soprattutto di questo settore importante che unisce il sociale con il sanitario e che ha destato alcune perplessità perché insomma a dirigerlo, a gestirlo dovrebbe essere un manager, cioè una persona sola, un addetto ai lavori che dovrebbe avere tutte le decisioni invece di un consiglio di amministrazione. E poi vediamo la pagina di Senigallia dove si parla di una nuova iniziativa. Senigallia è ricca, è ricca di iniziative dobbiamo dire. Ebbene un pre-tour workshop e tipicità, un collegamento diretto con gli Stati Uniti. Evento Stati Uniti, fissato il programma. Il sindaco Livetti una vetrina verso mercati lontani. Ma Senigallia non è una località sconosciuta negli USA. È la prima volta comunque che da Senigallia vengono così ospitati dei tour operator che provengono dagli Stati Uniti. E comincia a delinearsi il programma dell'European Travel Agent Forum che si terrà a Senigallia dal 12 al 15 novembre. Ieri mattina l'organizzatore logistico di questa manifestazione, Antonio Lucente Stabile, qui nella foto, è arrivato sulla spiaggia di Velluto per discutere insieme al sindaco e gli ultimi dettagli. Intanto emergono alcune anticipazioni, anticipazioni che riguardano una cinquantina di tour operator che appunto giungeranno da Senigallia. Vediamo anche la pagina di apertura di Pesaro dove si parla della cittatella dello spot, come ha fatto il resto del Carlino. Si rischia l'incompiuta per quanto riguarda la piscina Facchini. Mancano oltre 2 milioni. Il sindaco li aveva promessi ma ancora non sono stati destinati. E allora vediamo altre notizie voraggini a Montegranaro. Quel pensionato ha ragione. Quel pensionato che ha scritto una lettera al sindaco dopo che l'aveva fatto anche un bambino per quanto riguarda la strada che doveva percorrere tutti i giorni per andare a scuola, una strada molto dissestata, ma anche a Montegranaro ci sono voraggini che meriterebbero una nuova asfaltatura. E poi anche qui si parla del marchio Berloni venduto all'asta, mentre vediamo che la discarica di riceci rientra nelle giornate del FAI. Giornate del FAI d'autunno che si terranno il 14 e 15 ottobre. Ebbene viene inserita in questa manifestazione anche la passeggiata che si farà dal comune di Montefabbri fino alla discarica di riceci. Riceci si trova nel comune di Petriano, situata in un anfiteatro naturale di notevole bellezza e ci sarà anche il Vescovo Salvucci. Era l'ultima notizia. Con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 per le notizie che avranno avuto, che saranno emesse nel weekend. E questo è tutto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.